Il doppio vittorioso confronto con l'Udinese ha permesso alla primavera dell'Atalanta di passare il turno in primavera Team Cup lo scorso mercoledì 29 novembre e tre giorni dopo di conquistare tre punti preziosi in campionato. Successo che ha permesso all'Atalanta anche in virtù dell'1-1 fra Inter e Juventus di riconquistare la vetta solitaria in classifica. È stata una partita difficile, qua in questo campionato non ci sono di partite facili, sono tutte squadre molto forti, siamo stati bravi ad andare subito in vantaggio, poi sfortunatamente abbiamo subito il gol dell'1-1, però siamo riusciti subito a fare il 2-1, poi mi hanno annullato un gol fuori gioco forse, però alla fine siamo stati bravi a vincere questa partita che non era facile come tutte le altre partite. Dopo Del Prato ecco Nibo Cazzi autore del gol del 3-1 definitivo. Sono molto contento per aver fatto gol ma soprattutto che la squadra abbia guadagnato i tre punti che si meritava dopo una partita comunque giocata bene e io devo cercare di farmi sempre trovare pronto, quest'anno ho un giocatore davanti molto forte Musa, però io comunque devo sempre stare giù, testa bassa, pedalare e ogni volta che il mister mi chiama devo essere pronto. Musica